Si chiama Garrett G, un ragazzo americano che è diventato un milionario a 28 anni di età, il quale ha deciso di partire per un viaggio a tempo indeterminato con la moglie e tre piccoli figli. È una scelta completa quella che ha fatto, pensate che l'uomo, stramilionario, però ha fatto un'altra scelta, ed è stata quella di mollare tutto, viaggiare a gratis, gratuitamente, con la famiglia, nei posti più belli, più epici, più sublimi, azzardo a dire, del mondo del nostro pianeta, la Terra. Infatti, tutte le risorse necessarie per il loro viaggio di sogni è stato ricavato dalla vendita della casa che lui e la moglie condividevano, come anche dell'automobile e di tutto il resto delle cose che i due avevano in loro possesso. Quindi, hanno rinunciato alla casa per vivere in maniera itinerante, visitando tutti i più bei posti del mondo, andandoli a guardare, a godere e apprestandone le bellezze sofisticate e sublime che ci sono. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la visione di questo video oggi, cari utenti di YouTube, iscrivetevi se vi va a commentare, ciao a le anno, un anno a tutti, a tutti.